è stata giocata alle 3 alle 15 è finita 0 a 0 conseguenza nella partita che finisce 0 a 0 uno che non l'ha vista non l'ha nemmeno sentita che cosa si può inventare dupalle penso che si è vista poi non lo so scrivetemi voi com'è andata sta partita 0 a 0 risultato parla chiaro a sassuolo 0 a 0 sassuolo atalanta 0 a 0 vario largo sassuolo atalanta seffre seffre grazie